Inoltre ho anche rinnovato l'invito al Consiglio regionale di Lombardia, un invito che avevo già fatto 12 mesi fa e poi 6 mesi fa, a procedere rapidamente al rinnovo della legge elettorale regionale con l'obiettivo primario di eliminare il privilegio del listino bloccato. E ho avuto assicurazione dal gruppo del PDL e dal gruppo della Lega, in perfetto accordo tra di loro, che comunque questa riforma sarà portata a termine, come io avevo auspicato, entro la fine di quest'anno.